Il Presidente della Giunta regionale e coordinatore regionale della PDL, Giuseppe Scopelliti, ha illustrato stamani ai parlamentari, ai consiglieri regionali e ai gruppi dirigenti della coalizione di governo riuniti a Vibo Valencia, la situazione della sanità calabrese in relazione agli adempimenti previsti dal piano di rientro, nonché alcune riflessioni sulle necessità di migliorare i servizi della rete di assistenza. Nella premessa, si legge in un documento, Scopelliti, che chiarirà tutti gli aspetti tecnici in una imminente conferenza stampa, ha messo in evidenza la genesi della situazione debitoria, dalle incertezze dei conti alle manovre dilatorie, ha aggiunto poste in essere dalla precedente Giunta, per non aderire alle condizioni necessarie di ottimizzazione imposte dal Governo centrale. Ci sono alcuni ospedali da riconvertire o da chiudere, ha detto Scopelliti, perché sono improduttivi e non sono finalizzati i bisogni del territorio. In questi contesti, ha aggiunto il Presidente, non solo non si incrociano la domanda e l'offerta, ma si disperde una potenzialità economica che comprime il diritto inalienabile alla cura e alla prevenzione. Scopelliti ha preannunciato una serie di attività istituzionali, di partenariato prestigioso con grandi centri nazionali, che saranno in grado di drenare progressivamente almeno del 10% i costi dell'emigrazione sanitaria. Il Presidente ha messo in evidenza come la Giunta abbia già recuperato, attraverso la farmaceutica e i tagli alla Fondazione Tommaso Campanella, il 30% circa del disavanzo annuale. Altre risorse considerevoli, ha annunciato, saranno recuperate dalla riconversione dai tagli delle strutture, oltre che dalle dismissioni immobiliari. Ogni nostra iniziativa, che sarà il frutto di un confronto con gli operatori della sanità, classe medica in primis, pone al centro i cittadini calabresi, ha concluso Scopelliti, ai quali dobbiamo garantire l'impegno già assunto, cioè quello di consentire a tutti il diritto di curarsi nella propria regione e di avere un'assistenza qualitativa adeguata. Principio che sarà la bussola che orienterà ogni nostra azione. Al dibattito sono intervenuti parlamentari e consiglieri regionali del PDL e dell'UDC, dell'UDEUR, dei repubblicani, dirigenti politici. Tutti hanno messo in evidenza, innanzitutto, la positività della scelta operata dai vertici del PDL, di allargare la discussione ai partiti della coalizione, in un'ottica di democrazia partecipata, che è sintomo di profonda attenzione e sensibilità. Il 30 giugno il presidente della regione Scopelliti sarà sentito dalla commissione di inchiesta della Camera sugli errori in campo sanitario e i disavanzi sanitari regionali, presiduta da Leoluco Orlando. L'incontro, ha detto Orlando, sarà un'occasione di grande rilievo per esaminare e contribuire ad individuare e monitorare misure necessarie per fronteggiare la gravissima situazione finanziaria della sanità in Calabria e le gravi ripetute lesioni al diritto costituzionalmente garantito di tutela della salute. La commissione, ha aggiunto Orlando durante l'audizione della sezione regionale della Corte dei Conti Calabria il 27 maggio scorso, ha rilevato una situazione di forte carenza di cultura delle dato, evidenziata dall'incertezza e dalla contraddittorietà delle cifre relative al disavanzo. Il sindaco di Catanzaro, Rosario Olivo, ha annunciato durante la seduta di oggi del Consiglio Comunale le sue dimissioni dall'incarico. Olivo, ex presidente della Regione Calabria ed ex parlamentare, è alla guida di una amministrazione di centro-sinistra e ha comunicato la sua volontà dopo che la maggioranza è stata abbattuta sul voto per la nomina di un revisore dei conti. La coalizione aveva già dimostrato difficoltà nei mesi scorsi, così quando il voto dell'aula ha premiato il candidato della minoranza, il sindaco è intervenuto annunciando la sua volontà di rimettere il mandato. Se questa è la nuova maggioranza, ha detto prima di lasciare l'aula, io non mi riconosco e mi dimetto. Sarebbero stati quattro i consiglieri di maggioranza che avrebbero votato per il candidato dell'opposizione. Olivo è stato eletto nella primavera del 2006 e la città, in caso di scadenza naturale della consigliatura, sarebbe chiamata al voto nella tornata elettorale del 2011. La maggioranza è data sotto durante la votazione posta al quarto punto dell'ordine del giorno, relativa alla nomina del membro del collegio dei revisori dei conti del comune di Catanzaro, in sostituzione di Salvatore Muleo, dimissionario. Prendo atto che la maggioranza non è più quella scatturita dalle urne nelle elezioni del 2006, ha detto il primo cittadino, ma un'altra nella quale non mi riconosco. Ringrazio la città che mi ha voluto sindaco e i consiglieri che sono rimasti fedeli al loro mandato elettorale. Auguro buona fortuna alla nuova maggioranza. Il voto del nuovo membro del collegio dei revisori dei conti, a scrutinio segreto, ha visto l'affermarsi di Giuseppe Corea con 15 preferenze. 11 sono andate a Francesco Muraca, nome proposto dal centro-sinistra. Una la scheda nulla e una quella bianca. Approvata anche una proposta del consigliere Sinibaldo Esposito, per la stesura di una relazione di sintesi sull'elaborato trasmesso dalla Corte dei Conti contenente indirizzi interpretativi in materia di riscossione di relativo affidamento ai concessionari, relazione che dovrà stirare il commissario del bilancio assieme ai capigruppo e all'assessore al ramo e che dovrà essere discusse in consiglio comunale.